Conversazioni con gli artisti, presentazioni di libri, esposizione di opere fotografiche e di videoarte. Sono più di 50 gli autori coinvolti nella tredicesima edizione di Centrale Festival, la rassegna di eventi sulla fotografia e l'arte contemporanea a cura di Luca Panaro e Marcello Sparaventi. La manifestazione si terrà dal 10 al 12 giugno nella splendida cornice della Rocca Malatestiana di Fano. Negli ultimi anni siamo riusciti con l'aiuto del Comune di Fano e di tutte le istituzioni a portare questo festival a un rilievo davvero nazionale, senza però scordare mai l'interazione col territorio. Infatti ci sono molti artisti della provincia di Piso Rubino e anche della città di Fano che metteremo in evidenza proprio nel cuore della città. Il programma prenderà il via venerdì alle ore 17 nella sala di rappresentanza della Fondazione Carifano dove verrà presentata la mostra intitolata Prova di Trasmissioni, una raccolta di progetti didattici realizzati da Centrale Fotografia con gli interventi degli autori. Le opere saranno esposte nelle vetrine del Caffè Centrale e a Centrale Edicola. La sera poi alle 21.15 verrà inaugurato ufficialmente il festival alla presenza delle autorità cittadine e degli artisti. Seguirà alle 23 l'apertura di tutte le mostre. Tanti incontri previsti anche nelle giornate di sabato e domenica. Allora, nella giornata di sabato è molto importante al mattino sotto i tigli della Rocca Matestiana la lettura dei portfoli dove chiunque, gratuitamente, prenotando a info-centrale-fotografia.com può prenotare la propria lettura con uno dei curatori che hanno selezionato i lavori. E questa è una bella opportunità. Poi nel pomeriggio ci saranno tutti i vari interventi con gli artisti, alla sera pure. La domenica avremo invece uno speciale con un editore che si chiama Penisola. All'evento sarà presente anche l'artista Fabio Sandri, già ospite d'onore nel 2014, che nel salone principale della Rocca presenterà una grande installazione composta da opere recenti. Inoltre quest'anno verrà ospitato un progetto dell'ISIA di Urbino dal titolo Fotografia, Identità e Territorio con le opere di tre studenti. Il programma completo è consultabile sul sito di Centrale Festival. C'è un appuntamento importante di arte contemporanea dedicato alla fotografia Centrale Festival, la sua tredicesima edizione, ma in questi anni è cresciuta moltissimo. È diventato un punto di riferimento a livello nazionale e direi anche internazionale con i suoi collegamenti. È una finestra per giovani artisti, ma anche per coloro affermati e la conferma che è diventato un punto di riferimento che poi questi autori, questi artisti, li ritroviamo in altri appuntamenti importanti nazionali ed internazionali. Quindi è un'occasione importante, è una vetrina per la città, ma soprattutto è un momento alto di arte contemporanea. Grazie a tutti.